Il problema è proprio questo, che noi viviamo in territori che sono spopolati, ma nello stesso tempo sono territori abbastanza vasti, perché il territorio è ampio. Cosa significa? Significa cercare di lavorare innanzitutto per il cittadino e cercare di farlo trovare a suo agio, di trovare in quel paese un qualcosa che possa soddisfarlo. Come si dice il sindaco in dialetto? Il sindaco. Il sindaco in dialetto.